È difficoltoso, come il ginocchio ancora non è guarito, ma questo prossimo lo farò. Ho parlato l'altro giorno con Monsignor Welby e abbiamo visto come possibilità il febbraio per andare a Sud Sudan. E se vado a Sud Sudan vado in Congo, ma stiamo tentando perché dobbiamo andare tre insieme, il capo della Chiesa di Scossia, Monsignor Welby e io. Abbiamo parlato con lui, via Zom, l'altro giorno su queste cose per aggiustarle. Grazie. Grazie.